Oggi voglio consigliarvi un romanzo molto bello che si intitola Un albero cresce a Brooklyn di Betty Smith, davvero molto interessante, profondo, è un classico della letteratura americana e se vorrete anche voi leggerlo intraprenderete un viaggio nella famiglia Nolan e quindi verrete proiettati nel mondo di Brooklyn, la Brooklyn dei primi anni del 900, siamo tra il 1912 e il 18 all'epoca della prima guerra mondiale, vedremo l'arrivo del T-model di Henry Ford, lentamente scoprirete come questa generazione, perché tutto ruota attorno alla protagonista, alla bambina, la figlia di questa famiglia Francis, Francis Nolan, che appunto seguiremo passo passo fino alle soglie della maturità, perché in realtà lei ha tra i 16 e i 17 anni quando finisce la storia ed è molto bello perché vedremo come la storia familiare si intrici alla storia universale, qui vedrete tutti i cambiamenti insomma storici, economici, sociali e soprattutto anche culturali che poi deriveranno da tutte queste innovazioni e da questi grandi cambiamenti. Dicevo la protagonista è Francis, la quale viene paragonata ad un albero, una ragazzina che quando può non vede l'ora di sedersi sulla scala antincendio dell'appartamento in cui vive e da lì osserva il mondo, osserva e poi scrive tutti i suoi pensieri e tutte le sue riflessioni personali, il suo sogno è quello di diventare una scrittrice, quindi davvero molto molto interessante. Lei è quell'albero, cioè è quella pianta che riesce ad emergere, a farsi strada tra le pietre e soprattutto tra il cemento e l'asfalto della città di Brooklyn. Ecco nonostante le avversità della vita, perché vedrete che dovrà affrontare la fame, la povertà estrema, le difficoltà anche sociali, Francis stessa sarà vittima di un tentato stupro che per fortuna poi non avverrà, quindi davvero dovrà attraversare migliaia e migliaia di difficoltà, ma alla fine riuscirà a trovare il suo posto nel mondo. Non ci dice poi quale sarà la sua destinazione finale, perché si interromperà prima, però effettivamente si concluderà con la sua scelta di entrare all'università. L'elemento che subito distingue lei, la sua generazione, da quella dei genitori è il valore incommensurabile, inestimabile che viene dato proprio all'istruzione, questo ascensore sociale che permette di salire la scala sociale, di poter quindi elevarsi, di poter cambiare completamente stile di vita, quindi istruirsi, conoscere quel desiderio di sapere può portare veramente ad avere delle grandi opportunità che non hanno avuto i suoi genitori. Infatti il padre Johnny è un po' il perdigiorno, diremmo noi un po' uno sfaticato, nulla facente, in realtà scoprirete che è semplicemente una persona delusa della propria vita e soprattutto rassegnata, ecco è questo che balza all'occhio. Johnny fa il cameriere, fa anche un po' il cantante, quindi balla, suona, canta, serve in tavola, però non lavora sempre, è svogliato e soprattutto si sente un fallito e per dimenticare queste atrocità, avversità della vita, insomma il peso delle responsabilità, si mette a bere, quindi diventa un ubriacone e sia lui che la moglie sono giovanissimi, quando si sono conosciuti avevano lui 20 e lei 17 anni, quindi veramente giovanissimi e adesso che hanno i figli ancora sono poco più che trentenni, quindi sono veramente giovani, lui ha deciso di annegare tutti i dispiaceri nell'alcol e soprattutto quella mancanza di opportunità. È vero che siamo in America, è vero che siamo a Brooklyn, però purtroppo ecco i genitori non sono istruiti, lui di origine irlandese, quindi figlio di immigrati, la madre lo stesso, loro venivano dall'Austria, quindi soltanto i figli sono cittadini americani a tutti gli effetti perché godono dello ius soli, quindi un pochino si parlerà anche di politica, il padre ogni tanto farà delle lezioni ai figli sul sindacato, però effettivamente ecco loro non sono destinati a grandi cose, a questa grande opportunità che può dare l'istruzione, Francis invece potrà finalmente frequentare l'università, però ci arriverà molto molto a fatica, molto a rilento e poi scoprirete il perché. Non si può non amare Johnny perché è giovane, spensierato, è un sognatore, ama i suoi figli, però effettivamente si sente schiacciato dal peso delle proprie responsabilità, quindi in fondo è quasi una vittima, nessuno riesce a condannarlo per questo e il suo è un modo per anestetizzare i dolori dello spirito. La famiglia Nolan rappresenta la storia di milioni e milioni di immigrati stranieri che sono giunti in America, cioè loro rappresentano il sogno americano di una vita migliore. Katie, la madre, è effettivamente una grandissima lavoratrice, quindi una lottatrice addirittura come dice il romanzo, mentre Johnny è un inutile sognatore, quindi uno che veramente non sta con i piedi per terra, che desidererebbe vivere una vita diversa, molto più libera, molto più aperta. Ad un certo punto insomma si pente della scelta che ha fatto, capisce che non era pronto ad affrontare tutte le responsabilità e le conseguenze della paternità. Però tutto ruota attorno alla protagonista Francis, la quale un giorno scopre il valore della cultura e dell'istruzione, perché all'inizio entra in biblioteca quando è piccolina e quindi inizia a leggere, lei ama i libri alla follia, quindi tutti i giorni legge qualcosa, scrive tantissimo e poi si innamora della scuola, anche quando poi sarà costretta ad abbandonarla per iniziare a lavorare, vedremo che il padre Johnny morirà e quindi a causa di questo grave lutto tutto cambierà nella famiglia Nolan. Però lei è veramente innamorata dei libri, per capire chi sia veramente Francis bisogna proprio leggere questa frase di pagina 90, ma Francis era anche qualcos'altro, era i libri che leggeva in biblioteca, il fiore nel vaso scuro, l'albero che germogliava irresistibilmente nel cortile, le discussioni violente che aveva con il fratello, che pure amava teneramente, era il dolore segreto e disperato di Katie ed era anche la vergogna di suo padre che tornava a casa ubriaco. Francis era un miscuglio di tutte queste cose e di qualcos'altro ancora che non veniva dai Romley o dai Nolan, ma dalla lettura, dal suo spirito di osservazione e dalla vita di ogni giorno. Era qualcosa che era in lei e in lei soltanto, qualcosa di diverso da qualunque altro membro delle due famiglie. Era ciò che Dio o il suo equivalente pone in ogni anima a cui dà vita, qualcosa di particolare che fa sì che non vi siano due pronte digitali uguali al mondo. Ecco, veramente Francis è tutto questo, è una sognatrice ma è anche una lottatrice, lei è veramente la fusione dello spirito dei due genitori, crede in Dio, loro sono una famiglia di origine irlandese, quindi cattolica, però ad un certo punto quando ci sarà appunto il luto del padre lei dirà di non crederci più, poi si pentirà, insomma c'è tutta anche una riflessione, il tema della grande riflessione filosofica, religiosa e della vita in generale, anche vista con uno sguardo laico e soprattutto con gli occhi di un giovane, quindi di un ragazzino, perché non dimentichiamo che lei e il fratello sono piccolissimi, hanno 12-10 anni, poi 16-17, quindi in realtà ecco dobbiamo pensare che un tempo finite le scuole elementari o le medie per i più fortunati poi rientravano subito nel mondo del lavoro per necessità e sarà proprio per il lutto che Francis dovrà lavorare, sia lei che il fratello e lei troverà lavoro prima in fabbrica come operaia e poi diventerà una lettrice, quindi leggerà giornali tutto il giorno per conto dei clienti e poi vedrete che tipo di lavoro, insomma di che tipo di lavoro si tratti, però ecco la morte del padre diventa l'occasione per riflettere anche sulla vita stessa, la quale sembra quasi un sogno, cosa resta dirà Francis realmente di noi sulla terra, cosa rimane di un uomo? Il nulla, solo il ricordo che viene lasciato nel cuore dei propri cari. La madre dice che forse imparerà troppe cose per essere felice, ecco di nuovo il tema dell'istruzione, più una persona è istruita e quindi può comprendere la realtà e più sicuramente soffrirà. Questo lo dicevano moltissimi filosofi che la conoscenza è anche la chiave del dolore perché mi rendo conto e divento consapevole della realtà, della mia condizione esistenziale, insomma, e della realtà che mi circonda. Però i libri nel tempo diventano i suoi migliori amici, non vuole più andarsene da scuola, tant'è vero che durante il suo lavoro poi inizia anche a frequentare dei corsi all'università, dei corsi estivi però, perché non ha i soldi ancora per iscriversi. In tutta la sua vita la componente essenziale che manca è quella dell'amore, lei è sola, fin da bambina si sente diversa, speciale e soprattutto sola. I libri diventano la sua unica compagnia, i suoi migliori amici, tanto che lei non vorrà più avere nemmeno un'amica, proprio perché le bastano le storie che non ha mai avuto un ragazzo e quindi non conosce ancora l'amore e un giorno per puro caso incontrerà un soldato dell'esercito statunitense che doveva partire per la grande guerra e che poi Francis scoprirà essersi sposato. E quindi anche lì una storia d'amore poi finita male, lei nel frattempo conosce anche un giovanotto all'università, però ecco interessante perché in realtà Francis riflettendo su tutto quello che le succede capirà che la felicità si trova nelle piccole cose, quindi non è necessario andare a cercarla molto lontano perché spesso l'abbiamo in casa, l'abbiamo vicina. Nel libro si parla molto anche della scuola, di come le maestre discriminassero tra le bambine ricche e le bambine povere, di quelle appunto che andavano a scuola ben vestite, pulite e quelle che invece erano sporche, avevano i pidocchi, quindi ci sarà tutto il mondo anche lì dell'educazione, dell'istruzione, che sarà veramente la chiave di volta di questo romanzo perché di nuovo la cultura è quell'ascensore sociale che permetterà a Francis e a Naili, suo fratello, di emergere e di poter salire nella scala sociale, quindi di poter avere di fronte tutta una serie di opportunità che i loro genitori alle generazioni precedenti non avevano avuto, i nonni addirittura erano analfabeti, non sapevano né leggere né scrivere. Il libro si chiude ad anello perché in questo romanzo alla fine quando Francis sta per partire per l'università, quindi andrà lontano perché si è finalmente iscritta, guarderà fuori dalla finestra del suo appartamento e vedrà una bambina che come lei si siede sulla scala antincendio che osserva il mondo esterno e quindi rivedrà in lei se stessa. Quindi è anche molto bella questa chiusura d'anello perché fa capire che una generazione passata e una nuova generazione dovrà ripetere, ricominciare dall'inizio tutta quella lotta per la vita perché di fatto loro sono veramente dei lottatori, delle persone che affrontano l'inferno sulla terra e quindi fa capire, dicevo, come ci sia proprio l'eterno ritorno, un moto incessante ed infinito per tutte le generazioni che saranno poi destinate a provare e a sperimentare sulla propria pelle le stesse esperienze. Cambiano le circostanze ma la sostanza resta sempre la stessa, il viaggio, il percorso è comune.